Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio! Siamo qui tornati su Black Ops 2 Zombie per la nuova sfida dell'MP5 questa volta su Fattoria e qua molto probabilmente morirò perché non c'è lo spazio per giro e ci sono quei maledettissimi zombie lenti che sono fastidiosi vi rinfresco le regole potrò usare solo l'MP5 e potrò avere solo una bibita che sarà ovviamente il Juggerman potrò, anzi non potrò usare bonus quindi neanche prenderli certo, dopo punti non è che mi faccia tanto male però tipo uccisioni istantanee la bombona cominciano noi e noi cominciamo a girare su Fattoria il giro che ho scoperto migliore stavo dicendo su Fattoria il giro che ho scoperto migliore è questo qua intorno al camion ovviamente evitando di morire sarebbe anche meglio e la sia Peppa tu sei questa gabbia mi c'è sta imponendo no, 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 no tu adesso fuori perché so che mi monti sul camion ecco chiudo la finestra perché se non è stato da qua e li prendiamo male di Tizio mi avete già ucciso e probabilmente lo rifaranno ancora sono finito in un buco e invece oh guarda, quei due lì sono lenti non mi creano problemi wow ma due lenti e due lenti eh, troppi lenti allora adesso cerchiamo di fare un bel gruppetto unito ok ecco tutti di qua sono gli zombie lenti potrebbero anche togliersi dei piedi ecco scogliamo qualche colpo ora qua scusatemi se non miro non è come su città che mi venivano tutti incontro in una linea qua come vedete c'è il gruppone quindi sparo un po' di colpi a caso ecco munizioni massime non posso prenderle tanto non è che mi aiutino poi molto pulizio punizione delle mp5 le quote i punti non mi servono quindi un altro bonus ma che cavolo se doppi punti lo prego ok istantanee le prendo e non sparo perché istantanee renderebbero la sfida troppo agevole poi dicono che dà più agilità ma con le mp5 non sono così ma che la stessa cosa non è che la stessa cosa è finita ecco ovviamente quando fate queste sfide che siete al round 20 ovviamente con un'arma che spara pinoli cercate di fare gravidattiche e di mirare alla testa magari non li uccidete però aiuta che cavolo è successo cioè mi è caduto da non era neanche senza testa è caduto è caduto da solo sta cosa me la son sognato e ho detto dai facciamo un video una serie dell mp5 su fattoria magari succedono le cose divertenti difatti i giorni cadono da soli perché adesso se vi si raggruppaste per bene mi fareste anche un favore ma non devo prendere i colpi ok uno ha perso la testa perché poi 15 su 60 sono a un quarto del percorso e a 5 minuti di registrazione non va molto bene un altro bonus ah beh doppi punti ah beh doppi punti doppi punti neanche a dire che è un bonus vitale i punti non mi servono poi adesso lo faccio dal gruppo parare mi sono usciti 3 bonus adesso posso uscire il massimo 4 chi è parte maledetti zombie si devo passare qua vicino perchè almeno li raggruppo meglio perchè dovrei andare a prendere i colpi alcune cosa andiamo adesso perchè sta andando meglio di quella che dovrò succedere ecco lì molto bene un co nooo gli zombie lenti dove non dovrebbero stare allora io non do parole 4 bonus al quarto round un carpentiere o se giocate ai tempi di rumpetro 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 e non posso prenderlo perchè mi rallenterebbe le barrile cioè fossero già sporassi tutti gli zombie lo prenderei ho visto che non lo sono qui aspetta ok se mi è andato qui aspetta qui aspetta si si più di 24 nella mappa non possono esserci è andata bene, a parte il primo tentativo e la pausa gatto anche più veloce di quello di città e neanche 10 minuti, allora adesso facciamo lo zoppo ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo, abbiamo lo zoppo adesso facciamo vedere la mappa, allora a parte questo giro se uno è pro, si fa questo, gira qua, così, perché lo zoppo perché anche questo non è male? stai zitto! poi vi spon consiglierei questo, perché gli vengono solo da davanti c'è uno sparo lassù stai zitto, zitto devi stai, zitto, sei uno zoppo stai muto! a 59, nonostante quello si sia suicidato me l'ha contato qua su abbiamo la double tap la mitica la 2.0 mamma mia sto zoppo perché ancora non ho capito come si fa a prendere i 25 punti dalle bibite ovviamente se tu ti strai ti dovrebbero trovare i 25 punti però non si... ecco qua mettiamo gli sparing potenti dentro c'è l'olimpia qua non c'è l'M14 a me i punti non li danno, molto bene qui abbiamo il tirapugni che prenderò lo spawn inchiudibile e non c'è la brutta cosa ecco qua è il punto proprio per i dribblaggi quelli gli estremi è molto però qua roba che è infattibile con l'uni mortali qua la spindicola non mi danno i punti non mi danno i punti e non mi danno i punti una cassetta una cassetta indicato alla televisione molto bene il frigo di transit che qua non serve a niente giusto per bellezza tanto io a transit non ci gioco il gigiti che non è 10 centesimi mi avete mentito è un pc per l'altra qua di bellino se buttate una scimmia lì dentro qui va affanculo se morivo così veramente e niente hai rotto le balle ok il video è finito la sfida è compiuta 60 uccisioni al secondo di arrivo a bel primo sono stato sfortunato non credo di farla anche su deposito vedrò e... sono in vacanza quindi aspettatevi più video cosa che spero anch'io e arrivederci ciao 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 ciao